In una Lazio che incanta, e che il Itare rivendica come la migliore squadra del campionato per questo avvio di stagione, oltre alla nobile firma di Ciro Immobile che sta cannibalizzando l'attenzione non si può che mettere in risalto il profilo dello spagnolo Luis Alberto. Uno dei calciatori più performanti di questa prima fase del torneo.E' giunto in virgola maglia bianco celeste l'estate scorsa con il difficile compito di ereditare il ruolo da protagonista abbandonato da Candreva per cercare fortuna con la maglia dell'Inter, lo spagnolo ha avuto un impatto devastante con il nostro torneo. Una manciata di minuti nei primi mesi della passata stagione, e il pregiudizio dell'ennesimo alieno gravitato sulle frequenze tricolori negli ultimi anni. Eppure i 5 milioni di investimento, erano garanzia se non altro di una fiducia assoluta da parte del parsimonioso staff dirigenziale Capitolino, e dopo una lunga semina culminata con i sudori, e le fatiche estive di Auronzo, Il tempo del raccolto, è finalmente arrivato? Merito dell'intuizione di Inzaghi di consegnarlo a zone di campo a lui più congeniali, e il talento del canterano Blaugrana è stato libero di deflagrare in tutta la sua magnificenza. Un'estetica votata alla concretezza, con tocchi felpati e giochi di suola sempre propedeutici al gioco di squadra e fondamentali anche nel fare di Immobile uno dei centravanti più prolifici della serie Sino alla scelta di mettersi in proprio disegnando perle di rara bellezza, e facendo spellare le mani anche ad un pubblico fine di palato come quello bianco celeste. Luisa Alberto sta driblando tutti gli scettici, e sogna di segnare il gol più importante anche con la maglia della rogia.